Musica 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 Buongiorno, sta finendo l'intervista forse, no? Sì, sì, stiamo finito. Per lui è un giornale elettronico, vuoi fare l'intervista? Mi piace il Marocco? Certo, assolutamente. Un bel mercato? Oui, io penso che è un mercato molto interessante per l'agricoltura e abbiamo più o meno cinque anni di società che è là. Un po' parlare in francese? Come vuoi, io in Italia, d'accordo. Faccio di meno io, ma mi ritiro. Il va a rappresentare tutti i prodotti dell'innovazione per le macchine di agricoltura che li fabbricano in Italia. Ah, c'è il signor? Il signor Francesco Bresolini. E lui è il presidente. Quasi sulle Bresidone. Ah, sì, il presidente. La Mantua? No, la Mantua conosco molto bene, ma non so che non conosco. Non capisco. Perché lavoravi lì? No, ho vissuto, conosco, ho vissuto tanto, ho 23 anni, ho fatto l'arri. Come vuoi partecipare al Salon d'agricoltura di Gnes? Per questa anno, non. Perché abbiamo fatto questa initiative per vedere anche le società italiane per fare l'introduzione sui marchetti. Potremmo che è un mare flessente, l'anno 2016, per esempio. Più più larga, più larga, più larga. Sì, conosco, conosco, c'è la più importante, assolutamente. È un grande, grande fuorio. Deve cominciare da piccolo, poi da fuorio. Assolutamente. Piacere, vi venuti in Marocco, sono un'Italia marocchina. E' un'otticento che ci parli molto bene di me. Sì, vieni. Allora, dopo, se volete che facciamo un'intervista dopo, oppure come volete? No, come volete voi. La possiamo fare adesso? Unification dei Medinets. Non dire il nome è Medinets. Ma io non sono Francesco Brasolino, però. Significa tecnologia italiana importata in Marocco. Questa è la prima edizione al Marocco? Non, è la seconda edizione. E la prima? Où è stata? A Casablanca, Haya Intelligentsia. C'è l'obiettivo di questo Salon? L'obiettivo di questo Salon? L'obiettivo è quello di portare e promuovere innovazioni e tecnologie in Marocco, in particolare per l'agricoltura. Sì, ho capito, ho fatto la tradizione. Quali sono i prodotti agricoli che imporano nel Marocco? Le prodotti agricoli che ricevete là in Italia, che partono qua dal Marocco? Sono molto apprezzati. Sono molto apprezzati. In particolare la frutta e la verdura molto apprezzati. Le frutti, la verdura. L'exportazione o l'importazione? Quello che ricevono là. L'importazione. E l'importazione, qu'est-ce che vuoi importer? L'importazione verso il Marocco? Sì. L'importazione verso il Marocco la conosciamo meno. Lo conosciamo molto, l'importazione, perché so che il Marocco fornisce, essendo che ha molta primizia... Un prodotto, un prodotto, sì, sì. Da là, sicuramente, importano materiali, diciamo. Diciamo, ecco, esatto, materiali prime, tecnologi... Sì, di ori, di solare. Le materiale, più che altro, importano il materiale in Italia. Come supporta l'agricoltura marocca, come la veda ti vuoi? Guardi, io ho avuto la fortuna di visitare parecchie aziende agricole qui in Marocco. E noi abbiamo grande volontà di sviluppare, sì, abbiamo un bel progetto sviluppare, in particolare sull'erba medica. In quale regione? Diciamo, abbiamo la regione quella che abbiamo visto. In Ponssa Marrakech, l'hauz Marrakech, la regione Tadla, la regione Tadla, la regione Tadla, la regione Tadla, l'hauz Marrakech. E noi abbiamo investito 300 hectare di l'elfa, da, a exportato, per l'exportazione. Sì, non, c'è la tradizione, perché, meno male che ci sono, non si vieni la lingua italiana. Grazie, voi vi presentate, vi presentate. Io sono Gianfranco Ambrosi, vengo da Verona e il mio progetto è portare avanti le energie rinnovabili per tutto il Marocco, in particolare per l'agricoltura. Siamo a San Bonifacio. Io il primo paese dove sono andato in San Bonifacio. 1990, la prima partita mondiale. Io sono a San Bonifacio. Io sono Edith Jouet, c'è il suo collaboratore, traduttore, interprete e collaboratore. Io sono il mio figlio. Il mio figlio, Filippo? C'è il mio figlio. Il mio figlio, il mio figlio, è il mio figlio. Sono il figlio di Diarpano. Il progetto di questa intervento, bravo guardato. Io sono il progetto di questo filosofia, per gli agricoltori. Il progetto di questa lingue progetto di Marocca. Io sono il progetto, è stato un progetto. Dalla ragazzo, sono i grandi lavoratori. Sprevi un po' di vostri progetto. Sprevi un po' di progetto. Il pozzo, per tirare l'acqua dai pozzini per l'agricoltura, è una nuova tecnologia, è mobile. Sì che questo carretto è un nuovo tipo di energia che si può portare, diciamo, dovunque c'è necessità di produrre. È mobile, la necessità che c'è un chariotto mobile che si può trasportare sia per tirare dell'eau da fuori o per produrre l'energia per la villa. E questo non costa più per i agricoltori? È quello che si trova il ministro dell'agricoltura per fare l'energia per il TV. Il ministro dell'agricoltura per fare l'energia per fare il TV. Il ministro dell'agricoltura 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 per fare il TV. Non, non ancora. Inizio le per fare il, non è agricoltore, non ? Non, agricoltura per fare il TV. Questo è più importante, mentre la parte del podcast, Sì, è stato un piacere ragazzi, è stato un piacere, grazie, 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 possiamo entrare, un giornale elettronico, li ho vissuti in Italia più di 23 anni, in Mantua, in Mantua, vicino a noi, in Mantua. Sì, è la prima volta che ci siamo al Maroc? Possiamo fare una domanda? Sì, è la prima volta che ci siamo al Maroc. Non abbiamo bisogno di traduzione. Non abbiamo bisogno di tempo. Qu'è ci che vi presenti qui? Noi presentiamo dei piccoli di riciclione per il carburante, per il diesel, per andare a rivitaillare, per fare le rivitaillamento delle macchine di lavoro che sono nella campagna, eccetera. Ci sono dei piccoli... Qu'è ci che ci sia di particolare? Qualcosa di particolare? Ci per esempio, è per un piccolo... Per come se è particolare? Particolare? Non, perché è particolare. Perché ci è un piccolo... Ci sono un piccolo... Un piccolo... Un piccolo... Un piccolo... Un piccolo... Un piccolo... e il è portabile come voi vedete è benzina o gasolio? è senza non può usare il gasolio? e il gasolio? e il gasolio? 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 diesel? 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 voi siete proprio modello? o capogoliano? sì, capogoliano modello? come avete trovato il marocco? bene bello bello qual è la ville in Italia? Modena Modena sono circa 50 km da dove abito io a Modena noi abbiamo la Ferrari le motore e Modena Maserati ma dove c'è la Ferrari? e come dice Modena e Modena e Modena Maserati e Modena Modena la Ferrari? e Modena 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 e Modena e Modena e Modena e Modena e Modena e Modena grazie 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 non mi ha preso il cammino non mi ha preso il cammino e cosa parla in francese? sì, parla in francese ma siamo dell'Italia ma siamo dell'Italia quindi ci sono qui e cosa che vi presentate qui? e la Valese Storti è una società italiana che produce distribuzione per l'elevaggio. E non costa l'agricoltura per l'agricoltura? L'agricoltura, non costa l'agricoltura? Il y a un gamme complète, a partir d'une machine petite, pour établir des petits, des moyens, des grands établissements. Nous avons une gamme complète, au besoin de l'agricoltura. Vous avez déjà une agriculture sur le Maroc, les Marocains? Pas encore, pas trop encore. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, vous vous présentez s'il vous plaît. Je suis Monique, Monique Gilis, pour la Société Storti de l'Italie. Enchanté. C'est un service d'acciaio. C'est un service d'acciaio. C'est Verona. Il y a des pannons. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont des kits? Oui. Attendez parce que... C'est un service d'acciaio sur le gouvernement ici. Oui, il les explique très bien. Il nous explique très bien. C'est normal que c'est Laudine. Abbiamo l'Alzopan, una società specializzata nella produzione dei pogni sandwich, per fatture, per bordare, per sancho. E abbiamo studiato una soluzione pratica per l'elevaggio. Abbiamo un tono metallico all'estero, un vetro in Brasile, che è molto resistente alla corrosione. È stato studiato per l'elevaggio e per la soluzione dell'agricoltura. L'altra società è la Mania Energia, la società di Ogrupo che è specializzata nella domanda dell'energia. E qui, per il mercato marocchino, abbiamo studiato questa soluzione per il pompaggio di l'eau e l'energia necessaria per il mercato, ed è produzione con dei pogni soldi. E' una società specializzata nella realizzazione dell'energia pre-usiniera. Siamo tutti costruttori specializzati nel settore zootecnico. Sono tutti costruttori per la zootecnica. Dalle carpenterie, ai capannoni... ... 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 automaticamente. Il y a un tuello che prende l'eau al livello centrale si entra là e si sorti e, allo stesso tempo che le poulets boivano l'eau coola perché c'è un sistema di flotteo quindi quando l'eau si riempie là, si resta e quindi non si riempie inizialmente. Questo è per l'eau? E per le graine? Questo è anche per l'eau ma è più manuale quindi si riempie e mettere là par contre lì abbiamo le poulets mettere le graine inizialmente allo stesso tempo inizialmente che le poulets si riempie 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 non E' meglio per il fatto che non solo è più igienico... E' verificabile? Non, non è verificabile. E' verificabile? E' verificabile, è verificabile, è verificabile, è verificabile, è verificabile. Non sono problemi. Quindi quando c'è la malattia, non si trasmette perché si trasmette. Non si trasmette, non si trasmette. Allora per il cartone, quando c'è una tasca, per esempio, per i cartoni, bisogna giocare. Con questo... Non c'è un po' di più, ma... Ma... La questione del prezzo, non è verificabile per i agricolti? Beh, è verificabile, perché... Per le società... Beh, è verificabile, perché ciò che facciamo, ciò che priviligiamo, c'est di lavorare con le revendeure non le revendeure perché il revendeur può acheter di grande quantità un conteneur, due conteneurs e le vendere sul mercato mentre il pequeno è l'eleveur non ha il tempo di comandare senza l'Italia perché per il momento non è presente al Maroc non, non, on viene sempre fare l'exposition a casa in quale città 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 Brescia benvenuti in Maroc giornale elettronica una rivista elettronica i primi adesso in Europa il mondo che vende prodotti senza chimica per produrre frutta, verdura sono i primi in Maroc che vende prodotti senza chimica biologiche diciamo i primi in Europa senza chimica e Genetti c'è qua? è vostra luce? Genetti è il nome è il nome il nome e la linea si chiama EUFOP EUVEGETAL EUFOP dove siete? in che città? Bolzano provincia autonoma di Brennero si proprio si proprio in Germania avete già si si proprio ho portato il costume tipico no? mi chiedevo in Bolzano alla parte di ragazzi vivono a cittare queste cose si si io ho vissuto a Manto 23 anni a Meno si si mi piace il Marocco tanto perché qui è la prima volta che siete qua in Marocco come fiera? si si ma io vedo che il Marocco deve fare parte dell'Europa quasi si 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 se vogliono esportare anche in Europa state staccando un po' dall'Africa ma voi siete il Marocco è la porta d'entrata per l'Africa si si la comunità culturale è similare si si se voi volete vendere in Europa dovete vederli anni che noti io la linea è mia se non è il ministro e i tedeschi c'è io non lo facerò 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 grazie buongiorno il nome è Grillo Salvi Grillo il senatore che c'è adesso 5 stelle lui non abbiamo 5 stelle no poi noi siamo nati prima noi siamo dal 1957 quindi non c'era come me 60 anni 60 anni il Grillo non ha una rivista elettronica lui vuole l'esplicazione non parla italiano ah non parla italiano ma dove siete in che città hachafto la voglia lui la voglia l'italiano la voglia l'arabe la voglia l'arabe 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 c'è il mio collaboratore c'è il mio collaboratore c'è il fuente francese 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 chi c'è chied la har Zwick 5 milioni C'è il retro, il barcchetto, il carrellino, c'è la macchina che è il telefono della terra. Germano, sopravviventi. Sì, poco montato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.